Buongiorno, buon sabato, buon sabato mattina, come sempre ci ritroviamo qui il sabato per la rassegna stampa, occhio ai giornali, naturalmente sfogliamo Carlino Messaggero e Corriere Adriatico nelle edizioni locali, però prima guardiamo l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi sabato 16 aprile Santa Bernadette Vergine, il sole è sorto alle 6.22 e tramonterà alle 19.53 e con un'apertura sul pincio grazie alla nostra webcam possiamo vedere che la giornata per oggi si presenta sotto gli auspici migliori, allora vediamo le previsioni del tempo per questo fine settimana, vedete per oggi le didascalie molto scarne, sereno, poco nuvoloso il cielo, precipitazioni assenti e le temperature sono in lieve aumento, anche per domenica lo schema è lo stesso, come vedete cielo poco nuvoloso, nessuna precipitazione, temperature in leggero aumento e quindi insomma andiamo verso il bello e anche per lunedì è uguale, poco parzialmente nuvoloso il cielo, nessuna precipitazione e le temperature che continuano a risalire e quindi insomma abbiamo un tempo alquanto stazionario, perlomeno per quello che ci dicono le previsioni del tempo della protezione civile Marche. Vediamo le pagine dei giornali, come sempre iniziamo a sfogliarle, quelle nelle edizioni locali, partiamo dall'inserto di Pesaro, del resto del Carlino dove ci fa vedere uno spaccato del salone del mobile con un'azienda leader nel mercato delle cucine e del living è la Scavolini con il suo patron Walter Scavolini in compagnia dello chef, uno degli chef più visibili dal punto di vista mediatico. Carlo Crac dice buone nuove dal salone di Milano, l'articolo del Carlino, siamo fuori dalla crisi e l'Ivi conferma aria nuova e quindi il mobile riparte con tutto il suo indotto, sappiamo quanto è importante per l'economia non solo a Pesarese ma di tutta la provincia e anche possiamo dire delle Marche. Poi la Ministro Boschi ospite alla festa della BS, un altro imprenditore, Selci con la BS che ha fatto sicuramente grandi cose a livello di imprenditoria pesarese e quindi la Ministro Boschi ospite della festa della BS e poi in basso denuncia a Piobbico del laboratorio di Montalbini sono rimasti solo i rifiuti. Nelle pagine del Carlino troviamo anche un grido di dolore che si alza da chi vive una condizione di handicap, di disagio. Nella pagina 2 del resto del Carlino leggiamo noi lasciati sempre indietro, le famiglie restano senza rimborsi, la protesta di Sara per avere 100 euro bisogna aspettare due anni, odissea handicap, la lettera della regione spiacenti ma non abbiamo effettuato l'assegnazione degli specifici finanziamenti per l'anno 2014, conteggi certosini, bisogna inviarli alla regione ma la procedura è talmente complicata che in tanti addirittura rinunciano scoraggiati da questa metodica così burocratica, così complessa. Ancora nelle pagine del Carlino per quello che riguarda l'inserto di Pesaro, storia da tribunale, la cronaca, c'è un fatto di cronaca, incontri fatali all'ufficio immigrati, nei guai un agente che va sotto processo per sesso e l'accusa è quella di aver rinnovato permessi a due prostitute per interesse, c'è la truffa pur assente per passare alcune ore con le amiche e la gente figurava in servizio. Ancora cronaca, nelle pagine del resto del Carlino, siamo sulla strada, un ubriaco tampona e poi fugge, è preso, è un romeno di 47 anni bloccato al casello, denuncia e ritiro della patente. Sfiorato, un operaio nella fuga con una Nissan Micra a Lambito, un operaio che stava lavorando sulla strada. Andiamo a Fano con il Carlino dove c'era un incontro al pesce azzurro per parlare appunto di Trivelle, ma in quattro gatti si sono presentati ad ascoltare le parole di Giobbe Covatta e di Carrabs al pesce azzurro. Meglio Lara Ricciatti, l'onolevole di Selle, mette il figlio su Facebook, il mare è anche mio e si becca 215 like. Insomma, questo era al pesce azzurro che avveniva per questo incontro. Andiamo nel Corriere Adriatico, si va a Marotta per il casello, il casello che è finito al Tar con il ricorso, discusso il ricorso, la sentenza è rinviata. Il giudice si è riservato di decidere sul progetto di soppressione del passaggio livello della ferrovia, della ferrovia naturalmente interessata a questo cambiamento. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico di Senigallia, vediamo, si affronta l'inizio della bella stagione, quindi i locali che si apprestano ad accogliere turisti e quant'altro si rifanno il look, ultimi ritocchi, quello di Moreno Cedroni, debutta Mille Luci, il wine in barri di Cristiano, di Cristian Giorgini. Insomma, vedete, la città è in fermento per prestare gli ultimi ritocchi. Poi è un ragazzo, l'aggressore del bullying, qui si parla di cronaca, individuato grazie alle spy cam e alle testimonianze di alcuni giovani che lo hanno denunciato ai carabinieri. E state sicura, naturalmente non ci vuole solo il divertimento, ma ci vuole anche la sicurezza, tutto l'apparato si mette in moto, il prefetto garantisce gli sforzi. Questo è quanto avveniva nella città di Senigallia, dove vi segnalo anche un altro fatto di cronaca, un blitz del NAS nelle mense scolastiche, controlli nella cucina della Pascoli e nel centro cottura di Borgo Catena. Questo è avvenuto anche in altri presidi, anche a Senigallia si è verificata questa cosa. Pesaro, per il resto del Carlino, focalizza tutto nella pagina di apertura sul porto e si parla di diportismo, non soffoca il diportismo di porto, l'attività commerciale, accesso alla capitaneria, al progetto di Morsiani, sono 55 pontili galleggianti per 172 posti barca. Anche qui in testa di pagina il fatto di cronaca del pirata ubriaco della strada inseguito e bloccato in un cantiere uscito al casello di Fano, tampona un'autovettura sull'autostrada nella galleria di Novilara senza prestare soccorso alle donne ferite e per questo finirà nei guai. Una vita sempre in movimento, è la festa degli 80 anni del patron della Scelci, Giancarlo, veramente uno staccanovista, continua ad andare in perterrito in azienda e non rinuncia affatto al suo compito. Allora, Pesaro Urbino, per quanto riguarda il Corriere Adriatico, vi faccio vedere questa foto che ritrae due ritratti famosissimi con alle spalle delle pale eoliche perché protesta di sgarbi contro i parchi eolici nel Monte Feltro che deturpano il paesaggio, lo distruggono, l'ennesima crociata di sgarbi sulla bellezza del nostro paesaggio, un'offesa dettata da cupidigia e denaro, queste le sue parole. A Fano invece nel Corriere Adriatico si parla della raccolta delle firme del Comitato per il referendum del Santa Croce, si arriverà a una manifestazione, a un corteo il 29 in Piazza 20 Settembre con una fiaccolata organizzata il tutto per invitare il Sindaco Seri a ricevere le firme da parte del Comitato. 3.000 sottoscrizioni sono state raccolte, il Comitato per il referendum appunto organizza questo evento, però dicono anche che c'è stato un boicottaggio da parte di un funzionario del Comune che non ha autorizzato la raccolta alla Santa Croce a mettere il banchetto davanti al Santa Croce. E poi la Boldrini, il Presidente della Camera dei Deputati, sarà al Teatro della Fortuna venerdì prossimo con le nuove prospettive del progetto nato 30 anni fa che riguardava la città dei bambini e quindi la Boldrini porta la città dei bambini in Europa, quindi a Fano venerdì prossimo alle 16.30 al Teatro della Fortuna, la terza carica più importante dello Stato sarà presente qui a Fano. Ultima testata, vi faccio vedere il messaggero, partiamo da Pesaro con la pagina di apertura del inserto locale, si parla di trivelle, sono 5 le trivelle in stand by in questo quesito referendario di domani e quindi non riguarderà gli impianti a largo di Pesaro. Le piattaforme interessate sono concentrate nel sud della regione e l'addio dovrebbe essere dato nel 2024. Foto notizia per la Ministra Boschi che va alla festa del BS e l'ubriaco che causa lo schianto e fugge e poi viene addirittura sfonda la sbarra del casello bloccato alla 14. Il meteo dice, il sole sparisce ma non piove. E poi una truffa scoperta dai controlli della forestale sul chiaviale è l'ompo, quindi insomma un succedano del chiaviale e appunto invece dell'alimento così pregiato a processo una albergatrice. Sempre nella pagina del messaggero troviamo anche, c'era nella pagina di apertura riportato un trafiletto, si parla dei lavori anche qui di messa a punto dell'arenile, della spiaggia in vista dell'apertura degli impianti balneari, non vogliamo più vedere in spiaggia le ruspe a giugno. Grido d'allarme dei bagnini che temono ritardi per il ripascimento dell'arenile, soprattutto a Ponente e quindi insomma si è un po' indietro con questi lavori per via delle ultime mareggiate che hanno sicuramente interessato il litorale e sono arrivate un po' fuori stagione e hanno creato questo ritardo. L'ultima pagina, come di consueto, quella di Fano del messaggero, appunto il Santa Croce, l'abbiamo visto anche prima nell'altra testata, il Comitato accusa il Comune, ci ha boicottato, il gruppo promotore del referendum ha deciso di togliersi nella conferenza stampa di ieri di presentazione appunto dell'iniziativa che sta arrivando ormai a termine, qualche sassolino nella scarpa, sono state appunto già raccolte oltre 3.000 firme per difendere la locale struttura sanitaria. Poi di spalle si parla anche di Aset Holding, anche ieri dal sindaco era presente il CDA, il sindaco Seri dice su Aset Holding, sono tutte fandonie quelle che sono state dette e poi insomma arrivati i primi dati sull'inquinamento, pubblicati i risultati della qualità dell'aria nella zona artigianale, un solo sforamento per quanto riguarda le polveri sottili, questo riguardava naturalmente la centralina posizionata lì a bell'occhi per il rilevamento dello smog e anche delle polveri sottili. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevo, la rassegna stampa o che i giornali termina qui per questo sabato, naturalmente tornerà lunedì mattina puntuale alle 7.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia, questa sera occhio alla notizia alle 20.30 e quindi buon sabato e buon fine settimana a tutti voi.